La morte di Giovanni dalle bande nere non fu causata dai ritardi nelle cure del chirurgo o altri strattagemi della diplomazia come gli storici avevano ipotizzato. La morte, hanno stabilito le indagini sul suo scheletro, riesumato dalle cappelle medice dal professor Fornaciari, fu causata dalla setticemia scaturita da una ferita alla gamba. Abbiamo finalmente chiarito il motivo del decesso, della morte e il tipo di intervento chirurgico che è stato fatto. Lui fu colpito con tutta probabilità da un cannoncino dell'epoca. L'ipotesi che il medico abbia tardato perché la diplomazia lo ha fatto tardare è verosimile? Io penso di no perché lui era in periferia, molto lontano, era poco accessibile, fu trasportato con difficoltà in barella a Mantua e lì in condizioni le migliori possibili lui fu soccorso. Non solo, le indagini dell'equipe di Fornaciari hanno fornito nuovi elementi che serviranno poi agli storici riguardo alla vita e ai costumi del 500 italiano. Giovanni De Medici fu uomo di alta statura, forte e avvezzo a stare in sella. Tutte informazioni che confermano il ritratto del personaggio che ci hanno tramandato i cronisti, come conferma Monica Bietti. Sicuramente è un personaggio molto interessante, certo irrequieto in qualche modo, è educato in maniera molto vivace. Ulteriori informazioni sono emerse riguardo a Maria Salviati, sepolta nello stesso saccello del marito. I ricercatori hanno scoperto che fu una donna di piccola statura colpita da varie malattie, morta a causa della sifilide. Insomma, due nuovi tasselli sui genitori del primo granduca di Toscana, Cosimo, che si vanno ad aggiungere all'indagine cominciata con il progetto Medici.